Ciao amiche e ciao amici, siamo arrivati al 200esimo video della serie domande e risposte ciò significa che ci sono stati 200 quesiti posti da voi e a cui ho provato a rispondere attraverso 200 video i quesiti sono stati tantissimi di varia natura, la maggior parte legata a questioni di natura sentimentale non soltanto ma diciamo che la grande maggioranza è stata diciamo video richieste per questioni di natura sentimentale soprattutto legate alla riconquista, la riconquista è un tema che tocca a molte persone e non sempre è possibile ma spesso invece si riesce, oppure la gestione delle relazioni in corso perché anche molto importante è far partire una relazione con il piede giusto dall'inizio, questo dà un grosso miglioramento poi al proseguimento della relazione perché iniziare già perdendo potenziale o facendo degli errori relazionali comporta poi magari andare addirittura ad avere un potenziale negativo che significa che l'altra persona è decoinvolta e recuperare poi diventa molto difficile comunque vi ringrazio per i temi che avete proposto e diciamo il servizio continuerà per cui postate le domande mi raccomando l'unica cosa che chiedo è di postare le domande nei commenti e video non mandatemele via mail, via whatsapp perché non riesco a gestire, non riuscirò a gestire tutti questi canali invece se li postate nei commenti e video sarà possibile poi col tempo mi spiace se per qualcuno magari mi è saltata la domanda perché alle volte ne arrivano tante per cui qualcuna non viene intercettata comunque se non viene intercettata riproponetela tranquillamente perché non è che non voglio rispondere a quella domanda che mi è sfuggita insomma comunque vi ringrazio di nuovo e al prossimo video ciao a tutti ah mi raccomando iscrivetevi al canale questo servizio vale appunto per chi è iscritto al canale è completamente gratuito ma valido solo per chi è iscritto al canale ciao a tutti